Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video commento del capitolo 1113 di Wompisua Come sempre per iniziare vi ricordo di iscrivervi e condividere questo video, gli altri video che avete visto sul canale con i vostri amici in modo tale da farla scrivere anche loro, di lasciare un bel like ovviamente se il video vi sarà piaciuto di farmi sapere la vostra qui sotto nei commenti, di seguirmi sui vari social, link in descrizione Per quanto riguarda quindi Instagram, dovrete connettermi in privato, vedere meme, sondaggi, essere aggiornati quando escono nuovi appuntamenti qui su YouTube e poi su Twitch e TikTok dove continueremo a portare nuovi contenuti, TikTok principalmente sulla mia vita personale ma meme, sondaggi anche lì, saranno nuovi contenuti molto interessanti e ricordandovi la sezione abbonamenti attiva, qualora vogliate contribuire in maniera diversa alla crescita di questo canale e avvisandovi anche che giovedì ci sarà il video spacchettamento di queste carte acquistate al Comic Con quindi ci sarà il video diciamo dell'unboxing degli acquisti del Comic Con volevo avvisarvi, come già fatto tramite post della community che purtroppo tristemente sabato ci ha lasciato il mio amatissimo cagnolino Spillo che dopo 17 lunghi anni purtroppo non è più con noi e tra l'altro chiunque di voi è un po' più attento o comunque un grande fan di questo canale saprà, e adesso lo ricondividerò anche, che il primissimo, primissimo video di questo canale ancora prima del primissimo video commento di One Piece di ormai più di sei anni fa fu il video intitolato Cane Impaurito dove per vedere come si riusciva a caricare un video su YouTube e quindi creare un canale all'epoca decisi di fare questo video di una ventina di secondi dove rincorrevo Spillo per casa e lui scappava e quindi è stato diciamo il primissimo video di questo canale e quindi si può dire a tutti gli effetti la mascotte di questo canale e quindi vorrei dedicare diciamo questo video a Spillo che adesso è a correre insieme a Ace, Barba Bianca e insieme a tantissimi altri personaggi nel mondo di One Piece ma nella vita reale insieme a mio nonno, al mio amico Giuseppe insomma a tutti i miei cari che non ci sono più e quindi sicuramente si godrà anche lui non so se capirà la lingua umana comunque si godrà anche lui il video commento e detto questo come dovete notare dalla location siamo giù siamo a Napoli, siamo un po' in ferie e quindi niente, parliamo appunto del capitolo 1113 che apre prima di tutto le porte per quella che è probabilmente è l'ufficializzazione di una delle teorie più antiche nel mondo web per quanto riguarda One Piece che sembrerebbe concretizzarsi con le ultime parole di Vegapunk per quanto riguarda questo capitolo dove appunto lui annuncia che secondo le sue ricerche secondo le sue conclusioni l'intero mondo di One Piece sprofonderà nel mare e chi di voi naviga su web da un po' saprà che esiste un'antichissima teoria della distruzione della Red Mountain quindi con l'unione di tutti i mari per quanto riguarda appunto la creazione dell'All Blue che ricordiamo essere il sogno di Vismuk Sanji quindi Sanji protagonista di One Piece e quindi diciamo questo comporterebbe l'innalzamento dei livelli del mare a livelli stratosferici e quindi poi l'arrivo a Mari Joa che appunto non bisognerebbe più scalare la Red Mountain che ovviamente ricordiamo geograficamente parlando Mari Joa, Red Mountain sotto c'è l'Isola degli Uomini Pesce la stessa Isola degli Uomini Pesce che Madame Shirley nella sua profezia famosa annunciò che sarebbe stata distrutta dall'arrivo di Monkey e di Rufy che poi a posteriore abbiamo scoperto essere anche nel tipo di vino che nica il dio del sole quindi sole, mare, luna, oscurità di Teach e c'è la questione di him ma vi lascio tutti i video per quanto riguarda queste teorie che abbiamo già trattato in modo tale che possiate recuperarveli e capire anche un po' meglio come la penso da questo punto di vista però prima di arrivare poi a questo discorso che prenderà gran parte del video è giusto anche analizzare un po' tutto il contesto di quello che abbiamo visto all'interno del capitolo prima di tutto c'è stata una piccola panoramica delle told nel mondo vediamo alcuni personaggi come per esempio Crocus vediamo alcune isole dove i nostri Mugiwara sono stati nel, diciamo, durante il timeskip quindi per esempio l'isola di Chopper o l'isola dove è stato Frankie che poi è anche l'isola natale di Vegapunk e poi ci sono per esempio c'è Merry, colui che costruì la Going Merry che fu poi donata a Rufy durante il suo approccio con il personaggio di Asop quindi quando appunto c'era la questione della saga di Kuro e poi ci sono altre piccole panoramiche senza però andare a fossilizzarsi troppo né sui grandi personaggi dell'opera per esempio non vediamo Shanks non vediamo Buggy non vediamo la Marina non vediamo tantissimi personaggi vediamo giusto qualcosina così qualche personaggio random e poi anche un po' quello che succede da Cinosu con un Barba Nera che comunque festeggia quindi ha, ovviamente, da quello che abbiamo già visto ha vinto abbastanza ampiamente lo sconto contro Faga di Waterloo e quindi starà festeggiando per l'acquisto anche dei Road Pony Griff e poi comunque questo ci fa capire che è tornato alla Cinosu ci fa capire che comunque Garp non sappiamo precisamente le sorti che fine ha fatto anche questo personaggio quindi insomma sicuramente però il fatto che Teach festeggi indica, diciamo, per i buoni o per i nostri comunque qualcosa di nefasto e comunque detto questo la cosa interessante è anche vedere ufficialmente quella che è la testa di Vegapunk Vegapunk è un personaggio molto controverso molto sicuramente ribattuto e molto ben costruito da Oda Oda se l'è gestito comunque con gli archetipi narrativi non nuovi cioè la clonazione il fare dei database diciamo di se stesso in altre persone e poi mettere, scindere proprio a livello fisico, materiale il proprio cervello da quello che poi è il corpo è una cosa che comunque non è propriamente nuova già in Dragon Ball tantissimi anni fa c'era il film di Dottor Willow che era principalmente il cervello che poi si metteva in una macchina oppure Pain, lo sappiamo tutti Nagato, Pain in Naruto dove appunto poi c'è Nagato che in qualche modo gestisce i vari corpi di Pain eccetera eccetera e anche qui vediamo per esempio un'altra cosa molto importante cioè che i corosei riescono comunque a telecomunicare tra di loro senza necessità di supporti come i lumacofoni ma di questo adesso parliamo e quindi per quanto riguarda Vegapunk comunque è stata ufficializzata anche la presenza del suo cervello del suo enorme cervello ricordiamo come ci fu presentato tantissimi anni fa il suo cervello che cresceva a dismisura e quindi di conseguenza sarebbe arrivato ad un certo punto a un fallout a un burnout a un'esagerazione di informazioni a un eccesso di informazioni che un corpo umano fisicamente non avrebbe potuto sostenere e quindi di conseguenza appunto questa storia già la sapevamo che poi lui aveva in qualche modo scisso il suo cervello lo vediamo ufficialmente quindi quella un po' la gigante con il cervello è comunque Vegapunk ed è molto bella anche come è stata disegnata la scena molto in grande la vignetta molto in grande appunto di Mars davanti a Vegapunk perché non solo abbiamo anche se sì magari sarebbe stato più interessante Saturn ma semplicemente perché è il dio della scienza però vabbè voglio dire tutto sommato va bene e comunque fatto sta che è molto interessante perché vediamo non solo uno dei massimi esponenti del governo mondiale in questo caso uno dei 5 assi di saggezza uno dei 5 corasei di fronte allo scienziato per eccellenza nel mondo infatti per esempio vediamo anche Judge Caesar Clown che ha la notizia di Vegapunk che ormai è morto perché adesso parliamo anche di questo restano esseri fatti perché dicono ci siamo appena riuniti per sconfiggerti però ci fa capire comunque quanto Vegapunk sia superiore a qualsiasi cosa ad altri scienziati al a Morgan il quale dice la comunicazione che sta per dare distrugge anche un po' il concetto di giornalismo di indagine di suspense e comunque anche le telecomunicazioni della marina e l'intervento diretto di 5 assi di saggezza non sono riusciti a fermare la volontà di Vegapunk di parlare al mondo quindi ci fa capire quanto comunque Vegapunk fosse veramente oltre e fosse veramente estraneo alla società contemporanea perché era già oltre se si impegna se vuole né gli assi di saggezza né il giornalismo né altri scienziati né chiunque può impedire a Vegapunk di fare le cose e infatti quindi è molto bella questa scena di Mars davanti a Vegapunk dove Mars è a un certo punto giustamente che sappiamo essere fondamentalmente immortale infatti nel dialogo che ha con gli altri astri quando lui ipotizza di distruggere completamente la centrale elettrica in modo tale da far saltare tutte le telecomunicazioni Saturn lo dice è fuori discussione semplicemente perché l'onda d'urto andrebbe a distruggere addirittura 100 navi della marina tutti e 30.000 marine e tutte le armi dei Pix3 e addirittura poi York che potrebbe riprodurre la Mother Flame ma non cita loro ma Saturn non dice potrebbe essere dannoso per noi verremmo tutti spazzati via Saturn automaticamente si preoccupa solo e soltanto dei terrestri degli umani dei marine e delle armi cioè si preoccupa da un punto di vista di perdere offensiva militare non singolarmente umanamente dei marine però quindi lui è già assolutamente tranquillo e anche gli altri astri di saggezza lo seguono in questa tranquillità di dire anche se dovesse esserci un'esplosione praticamente devastante di tutta Egghead perché poi da quello che ci fa capire per essere spazzati 10 Buster Call insieme vuol dire che sarebbe veramente devastante non è minimamente preoccupato per se stesso o per gli altri astri e quindi sentire un Mars appunto semi-immortale che potrebbe probabilmente trasportarsi con il portale e sparire prima dell'esplosione o come stiamo vedendo potersi rigenerare probabilmente all'infinito quindi di conseguenza non morire è comunque interessante come persino lui di fronte a un cervello diciamo non umano di Vegapunk dice a questo punto cos'è la morte per te ed è molto interessante molto filosofica è una vignetta è una frase è un balone molto corta come discussione però è molto molto poetica è molto filosofica perché persino un demone immortale definiamolo così non sappiamo ancora bene i poteri degli astri comunque persino un demone immortale di fronte al progredire della scienza addirittura 500 anni più avanti di quella che è l'epoca contemporanea e di fronte alla capacità scientifica di uno scienziato di poter scindere il proprio cervello addirittura un saluto a Davis che scenderà tutto questo SC napoletano questa cadenza un po' napoletana e riesce a scindere appunto se stesso in cioè andando a eliminare quella che è la componente fisica naturale biologica della morte è molto molto interessante questo dialogo quindi da un punto di vista di Vegapunk ufficialmente è morto non solo perché il corpo ormai originale di Stella chiamiamolo così era stato pluritrafitto sia da Saturn che da Kizaru ma anche perché lui stesso sostiene che il videomessaggio sarebbe partito solo e soltanto laddove cuore e polmoni avessero smesso di funzionare e quindi per partire il corpo principale di Vegapunk è ufficialmente già morto gli altri Vegapunk sono quasi tutti morti resta York praticamente qualcun altro Atlas mi pare ma finisce là cioè finiti loro eliminati loro l'intero personaggio di Vegapunk da un punto di vista di progredire e proseguire nella storia e a livello attivo sarà eliminato poi ci saranno i strascichi di Vegapunk cioè tutto quello che è Vegapunk da questo videomessaggio in poi dalle scoperte scientifiche dalle costruzioni fatte e da quello che fece sia con Bonnie che con Orso tutto questo che verrà dopo sarà indirettamente come rendere protagonista di nuovo Vegapunk ma Vegapunk da un punto di vista di se stesso e degli altri Vegapunk in maniera attiva non ci sarà più cioè eliminati gli ultimi due Vegapunk il personaggio stesso di Vegapunk sparirà perché il corpo originale è anche tra l'altro già morto quindi comunque alla faccia di chi dice che in Monopiso non muore quasi mai nessuno e diciamo quindi mentre la situazione i perni principali di questa saga che sono Vegapunk e gli astri togliamoci da testa qualsiasi altro personaggio Vegapunk e gli astri sono i perni di questa saga quando Vegapunk muore e gli astri a Egged non ci sono più la saga di Egged è definita quindi Rufy e gli altri sono comunque di contorno in questa saga quindi nel contorno degli astri che poi ovviamente si incazzano a morte Mars si butta via dal laboratorio si ritrasforma subito in un uccello e incazzatissimo vola cercando disperatamente di percepire quale potrebbe essere il lumacofono che sta trasmettendo la trasmissione e non escludo anche che possa poi riuscire a interrompere Vegapunk nell'ultimo minuto quindi Vegapunk ci ha detto già che il mondo sprofonderà probabilmente ci dirà anche l'esistenza delle armi ancestrali parlerà magari di Uranus parlerà probabilmente quasi di Im e potrebbe anche poi essere interrotta la comunicazione con o Vegapunk che sta per dire anche lui il nome dell'antico regno e viene interrotto oppure sta per dire che esiste Im e viene interrotto quindi non è comunque da escludere che gli astri vincano a metà riuscendo a interrompere con il messaggio super mega finale che è quello più importante però comunque al momento non riescono a impedire la comunicazione di Vegapunk nel frattempo c'è la scena molto bella tra l'altro anche la cover è bellissima prima di aprire il capitolo cioè tutti i personaggi di Mugiwara come pezzi degli scacchi e quindi c'è la questione prima di tutto di Saturn che vuole eliminare Nico Robin Nico Robin che riconosce la voce di Saturn e viene comunque salvata dal tag team di Chopper Nami con Zeus Asop e Brook che comunque riescono a bloccare e ferire Saturn che sappiamo si rigenererà però riescono comunque a prendere tempo nel frattempo c'è Venus che sta cercando di colpirli sta cercando di colpire Bonnie e arriva Sanji che quindi ancora una volta per l'ennesima saga è uno dei penni principali perché riesce a salvare Jack Will Bonny pur portando sulla spalla il corpo principale di Vegapunk e riesce a colpire con un bel colpo Saturn Venus che comunque sapete quanto mi piace il personaggio di Sanji però anche vedo che poi Venus subito così come qualsiasi altro di saggezza fino ad ora viene colpito ma subito riattacca cioè tutti gli assi di saggezza quando vengono colpiti subito riattaccano subito ritornano all'attacco e infatti poi necessita l'intervento di Dory e Brogy e di Jack Will Bonny con il potere che abbiamo scoperto avere per probabilmente colpire ancora una volta Venus però è anche vero che comunque Sanji è stato quello che è riuscito portando ripeto in spalla comunque il personaggio di Vegapunk c'è quindi questo contorno di gli assi di saggezza c'è comunque Jupiter che sta lottando ancora con Rufy c'è appunto Venus e Saturn che stanno lottando contro gli Atomugiwara ci sono ancora Zoro e Jim in giro c'è ancora Mars che è quello che sta cercando praticamente il lumacofono che probabilmente sarà lui a interrompere le comunicazioni se ci riuscirà e poi c'è anche Warcury che insieme a Jupiter stanno comunque combattendo principalmente con Rufy e gli altri e poi diciamo quindi c'è il video messaggio finale e ripeto come ho detto in inizio video la teoria famosissima potrebbe a questo punto essere confermata o comunque poi ci faremo degli approfondimenti faremo delle live eccetera comunque il fatto stesso che il mondo non un'isola non una parte del mondo ma il mondo intero sprofonderà nel mare e alla fine c'è la vignetta con le sirene ci fa capire quanto comunque il personaggio di Shira Hoshi arma ancestrale cosa di cui probabilmente Vegabank parlerà nel video messaggio insieme probabilmente all'informazione di Uranus e Pluton quindi quanto è importante comunque il personaggio di Shira Hoshi come arma ancestrale e come sirena e quindi si ritorna alle origini cioè a Fisherman Island che è sotto comunque la Red Mountain che è sotto comunque Mario Joa che è l'isola della anzi letteralmente è la terra di Maria è il Geoide che è il termine scientifico per indicare terra di Maria quindi molto 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 interessante questa dichiarazione perché anche con la possibilità della Mother Flame che distrugge le isole con la ristruzione del Red Mountain che potrebbe succedere con l'unione o lo scontro tra Pluton questa nave da guerra enorme e praticamente che ricordiamo anche lei è sommersa e la Mother Flame ci potrebbe essere uno scontro diretto di onde che distrugge la Red Mountain quindi l'analzamento dei livelli del mare quindi di conseguenza lo sprofondare sott'acqua poi anche di tutte le isole questo sarebbe devastante bisognerebbe capire come salvare tutti quanti ricordiamoci che già Water 7 quando c'è l'acqua laguna è un disastro ci sarebbe però l'enorme contributo di Shiraoshi Uranus quindi a questo punto bisogna capire bene cosa sia e quindi di conseguenza l'intervento poi diretto di Yim Sama insieme agli altri di saggezza che stiamo vedendo comunque essere veramente devastanti e immortali cioè ripeto loro non si preoccupano neanche per un decimo di secondo minimamente di menzionarsi come possibile vittime di un'esplosione cioè si preoccupano di chiunque altro di perdere qualsiasi cosa ma non la vita è la loro vita quindi comunque è un elemento molto importante anche questo da analizzare e sicuramente la questione geopolitica la questione di futuro che parleremo ci faremo un video settimana prossima con calma questa settimana sto ancora un po' giù un po' il fatto del cane quindi insomma mi prendo qualche giorno libero settimana prossima c'è anche pausa faremo un video magari teoria per quanto riguarda questa situazione comunque fatto sta che l'annuncio è molto interessante gli scontri con gli assi sono interessanti l'incontro tra Mars e Vegapunk è interessante quindi comunque il capitolo 1113 ha fatto veramente un ottimo lavoro e detto questo quindi io vi ringrazio vi saluto vi invito a giovedì per quanto riguarda il video spacchettamento di queste bustine qua ci vediamo la settimana prossima con un video teoria e una live e poi con il video commento nuovo per quanto riguarda il 1114 di One Piece fate bravi i suoi resti domani un saluto a Spillo ovunque gli sia adesso e un saluto a tutti i miei cari e tutti i cari di chiunque voi che ci stanno guardando da lassù perché la vita la dobbiamo continuare anche per loro ricordatevi e un saluto a tutti quelli che sono i personaggi invece morti all'interno nel mondo di Mumpis ciao ragazzi alla prossima ciao Spillo